Questo è un messaggio di solidarietà da noi qui agli Stati Uniti, a Beyond Nuclear, a voi italiani che voteranno il 12-13 giugno sì per dire no al nucleare. È una decisione molto importante e infatti avete già preso questa decisione nel 1987 dopo il disastro di Chernobyl. Oggi abbiamo di nuovo un disastro nucleare, ma non dobbiamo aspettare sempre per un disastro per dire no al nucleare. Dobbiamo dire no per sempre al nucleare. Voi avete l'opportunità al referendum a dire sì per dire no al nucleare. E speriamo qui agli Stati Uniti che possiamo seguire il vostro esempio e l'esempio di Svizzera e Germania. Buona fortuna e ricordatevi di votare sì per dire no al nucleare.